Diamo il via alla Fessa del Mare con un classico, che è questo premio letterario Nicola Giunta. Quando si parla di cultura, di letteratura, insomma, lei mi sembra la persona assolutamente più adatta a introdurre e a moderare questo incontro, perché poi seguirà anche un dibattito. Sì, io mi definisco non un intellettuale, ma un operaio della cultura, quindi perché mi piace organizzare, realizzare incontri e dare occasioni alle persone che si interessano della letteratura di avere uno spazio, un palcoscelico. Il premio Giunta è ormai alla 17esima edizione, quindi è ormai diventato un classico. Abbiamo avuto partecipanti da ogni parte d'Italia e quest'anno abbiamo la fortuna, che è rara, di avere un vincitore reggino. E poi seguirà questo dibattito, dove si parlerà di teatro e di cultura. Ci sono degli ospiti illustri proprio della nostra città. Sì, abbiamo inteso privilegiare il teatro quest'anno, anche perché quasi tutti i poeti, sia i vincitori, sia la giuria, sono quasi tutti gente che ha scritto di teatro, quindi che migliora occasione. E anche perché nelle scuole è da un po' di tempo che c'è un risveglio enorme, è una voglia di teatro che fa veramente paura.